Dopo la bellissima puntata della scorsa settimana siamo tornati in Via del Fiume Bianco e siamo in compagnia del Presidente Santoro e dell'Assessore Lavori Pubblici Parisi. Buongiorno Assessore. Il Presidente una volta informato del problema presente qui in Via del Fiume Bianco si è subito attivato ed oggi la ringraziamo Presidente, siamo venuti a posta, l'abbiamo disturbata nella sua giornata di lavoro proprio perché Presidenti attivi, bravi ed anche giovani come voi riescono a dare i risultati nel più breve tempo possibile. Si sono io che ringrazio Roma 1 per la segnalazione e i cittadini che continuano a collaborare per migliorare il Municipio. Abbiamo fatto questo intervento insieme all'Assessore Parisi e all'Ufficio Tecnico Municipale ed era un po' di mesi che si aspettava di fare un lavoro che andava fatto. Adesso i cittadini potranno passeggiare in maniera più tranquilla. Quella buca enorme che abbiamo visto nei giorni scorsi in trasmissione non c'è più e man mano cercheremo di fare questi piccoli interventi che però sono decisivi e sono importantissimi appunto per la vita dei cittadini. Noi torneremo nel suo Municipio anche la prossima settimana in quanto diamo un'anticipazione ai nostri amici, tempo permettendo, perché il problema è stato esclusivamente quello del tempo, non è stato possibile rimuovere i rovi in via Laurentina. Quindi l'anticipazione è la dallevo, Presidente? Sì, sabato mattina si farà anche l'altro intervento sulla via Laurentina ridosso dei passaggi pedonali, dei ponti che ci sono sulla via Laurentina perché questa è un'altra segnalazione che i cittadini hanno fatto a Roma 1 e quindi al Municipio. Pian piano cerchiamo di migliorare appunto anche su quella strada facendo questi piccoli interventi che poi sono enormi appunto per la vita delle persone che vogliono semplicemente vivere il quartiere, non vogliono fare cose impossibili. Per il momento qui dal Torrino è tutto, ci rivedremo con un nuovo servizio da via Laurentina.